Dominique West ha parlato delle sue ricadute con il principe Ferri dopo che la coppia è andata insieme in viaggio al Polo Sud e l'attore, ha vuotato il sacco sulle loro buffonate. Dominique West, l'attore di The Crown, ha raccontato di come ha perso i contatti con il principe Ferri dopo aver rivelato troppo sul loro viaggio al Polo Sud. Ha ammesso in una recente intervista. Abbiamo in un certo senso, perso i contatti perché, ho detto troppo in una conferenza stampa. E quindi non abbiamo parlato dopo. Nel 2014, West ha rivelato le buffonate di Ferri durante un viaggio di beneficenza al Polo Sud. Ha elogiato Ferri definendolo un ragazzo straordinariamente gentile. Ma ha anche esposto il suo comportamento selvaggio fuori dalla telecamera. West ha ricordato come Ferri ha bevuto champagne dalla gamba protesica di Duncan Slater alla fine della sfida polare, e ha raccontato barzelletteose mentre gli altri ballavano senza vestiti. Dominic aggiunse. Spesso raggiungeva il punto d'incontro prima del resto dei suoi uomini e costruiva queste latrine incredibilmente sontuose, merlate, con merli e portarotoli della carta igienica. Ci sono voluti almeno 40 minuti per costruirli. Erano semplicemente favolosi. Spesso mi sedevo sulla latrina, pensando questa è una scala reale in ogni senso. Tuttavia, queste sincere rivelazioni causarono una spaccatura tra i due, portando alla fine della loro amicizia. Dominic West ha condiviso alcune storie sfacciate sulle buffonate del principe Ferri, durante un viaggio di beneficenza.